Ci ho ragionato tanto, però i motivi che mi hanno spinto ad accettare questa candidatura sono il gruppo che ho dietro che ha fortemente voluto questa candidatura successiva dopo le elezioni amministrative del 2019 e l'amicizia, la fratellanza e la stima che ho per il candidato Francesco Acquaroli, una persona per me stimatissima, una persona molto competente, pragmatica e molto capace e quindi con entusiasmo e la solita passione di sempre abbiamo accettato questo incarico. La regione di Marca ha bisogno di tanto, ha bisogno di cambiare sostanzialmente su tutti e su tanti punti fondamentali. Chiaramente parleremo nei nostri programmi di sanità, di infrastrutture, di tutela della costa, tutela dell'entroterra, trasporto pubblico locale, tanti temi per un cambio radicale all'interno di questa politica regionale. Ci sono tante idee che si stanno sviluppando nel programma elettorale e sicuramente, come dicevo, il tema della sanità, il tema delle aziende, della competitività delle aziende, del trasporto pubblico, della tutela della costa come della tutela dell'entroterra. Pari dignità tra cittadini della costa come giustamente che i cittadini dell'entroterra, che meritano sia sul piano sanitario, sul piano di trasporti e su tanti temi, pari dignità a livello delle stesse città della costa. La sua presentazione, la sua candidatura è stato quell'elemento in più che mi ha fatto decidere in senso positivo per candidarmi, perché è una persona con cui ho un rapporto d'amicizia ormai da tanti anni, che secondo me riveste in pieno le caratteristiche del candidato governatore. È una persona che sa ascoltare, è una persona molto capace, competente, che ha fatto tutta la gavetta politica nelle varie istituzioni. È per noi la persona perfetta, quindi non possiamo che sostenerlo fino all'ultimo giorno. Da tantissimi anni con Nicola condividiamo un percorso amministrativo di passione politica per i nostri territori da ormai oltre un decennio, credo. Quindi mi fa piacere ritrovarlo in questa importante sfida, mi fa piacere ritrovare lui come mi fa piacere ritrovare veramente tanti amici. Gli obiettivi debbano essere quelli che sono i componenti di una visione complessiva, dai servizi agli strumenti indispensabili per il rilancio del nostro territorio, dalle risposte alle imprese e alle famiglie e a quelle che sono le emergenze, tipo appunto quella della ricostruzione dei territori colpiti al sisma. Quindi citerei la sanità, citerei le infrastrutture. Siamo nel territorio di Pesaro, è più di un giorno che ci occupiamo, sicuramente nei dibattiti pubblici della Fano Grosseto, credo che sia una risposta da dover dare e dover dare anche delle certezze rispetto a questa infrastruttura. Altrettanto importante è una visione rispetto allo sviluppo economico della nostra regione, una visione che possa rimettere al centro le imprese, possa guardare alla loro internazionalizzazione, alla digitalizzazione, a tutte quelle che è la semplificazione dell'accesso ai bandi, soprattutto ai bandi europei, a tutte le opportunità che possono fare della nostra regione, farla tornare ad essere una grande regione. E poi, come ho detto, sicuramente la questione della ricostruzione, certi territori che hanno subito una ferita così profonda non possono aspettare ancora tanto perché il rischio di uno spopolamento e le conseguenze economiche e sociali è veramente elevatissime.